Stabilire la relazione, lavorare sul centro e sapersi separare. Questi sono i tre stadi in cui potrebbe essere riassunto il modello di musicoterapia analitica di Mary Presley, sorto in Gran Bretagna negli anni 70, i cui cardini principali sono l'improvvisazione sonoro musicale, la relazione con la persona e l'uso della parola e del dialogo, in un soggetto che abbia chiaramente capacità di simbolizzazione. Questi sono gli aspetti cardine del processo di supporto e di sviluppo attraverso questo modello di musicoterapia. Questo tipo di approccio può essere applicato in seduti individuali, di coppia e di gruppo, pur tenendo in considerazione che il percorso che ne deriva proprio per la sua struttura è sempre personalizzato e cerca di condurre la persona ad una maggior consapevolezza dei propri stati interni, facilitando un più armonico percorso di crescita e di sviluppo. Nel setting vi è la presenza dello strumentario e del pianoforte per l'esecuzione di improvvisazioni, alle quali poi può essere attribuito un titolo, spesso viene attribuito un titolo, e alle stesse seguirà un raffronto verbale, unitamente all'osservazione del linguaggio non verbale espresso dalla persona, osservazione operata dal musicoterapista. Sebbene per l'applicazione di questo modello in senso stretto occorre una specifica formazione in musicoterapia analitica e in psicoterapia analitica, ho avuto la fortuna di poterlo approfondire durante i miei studi e quindi portare con me alcuni tratti salienti all'interno delle sedute che ho fatto nel corso del tempo. Ecco che quindi voglio spiegarvi proprio questi tre stadi su cui si basa il modello. Il terapista infatti avvia la persona ad una esplorazione del proprio mondo interno, facendo della musica, come dico spesso, una sorta di ponte tra mondo interno e mondo esterno, in un processo in cui la persona sia condotta pian piano ad alleggerirsi degli eventi passati che ancora magari interferiscono nel presente, aiutandola a non essere più portata a rivivere tali esperienze, ma solo ad averne una memoria più consapevole dei fatti, degli eventi che si è riusciti ad elaborare. Nella fase centrale si lavorerà attraverso il musicale ed il dialogo sul nucleo della problematica che si sta esplorando, mirando ad un riequilibrio delle funzioni delle tre istanze, S, Io e Superio. Ricordiamo che questo modello riceve apporti dalle teorie freudiane di Melanie Klein. Ci sarà quindi la persona aiutata a prendere consapevolezza dal terapista dei propri vissuti emotivi per poi poterli conseguentemente saper regolare in un lavoro in cui la musica diventa mezzo per raggiungere obiettivi che non sono affatto di carattere musicale e che nulla hanno a che vedere con l'apprendimento della materia musica oppure portare la persona allo sviluppo di abilità improvvisative. L'obiettivo di questo processo è infatti il riequilibrio e l'integrazione appunto tra mondo interno e mondo esterno. E quando la persona e il terapista si arrivano a relazionare alla pari in una relazione basata sul presente allora la persona potrà riconoscere che il percorso è probabilmente giunto al termine perché ha raggiunto il suo scopo. E anche la separazione è un passaggio importante, un distacco in cui la persona si troverà a lavorare autonomamente ricordando quelle esperienze d'ausilio che ormai ha fatto proprie e che lo hanno fino a qui guidato regolando in autonomia vissuti ed emozioni. Senza dimenticare che la fase finale di un incontro tipico di questo modello di musicoterapia si basa sulla celebrazione del proprio sé. Infatti quando mi capita di dare un senso di chiusura agli incontri con bambini e ragazzi che ho seguito anche per tanti anni, mi è capitato di recente con un ragazzo che ho seguito per più di quattro anni, ho proprio rivolto a lui una lettera in cui si celebravano tutti gli sforzi fatti, tutti i momenti condivisi, tutte le tappe e gli obiettivi raggiunti, i miglioramenti, la crescita effettuata assieme. E devo dire che questo bambino ormai diventato ragazzo ha gelosamente portato con sé la lettera, non l'ha voluta leggere con me e questa è anche stata una dinamica che si è presentata nell'incontro, ero pronta a discuterne assieme ma lui ha desiderato leggerla in autonomia e tenerla con sé come ricordo di un percorso in cui per un periodo anche abbastanza lungo, grazie e tramite alla musica, ci siamo tenuti per mano. Grazie a tutti. Grazie.